Sono finiti in manette in quattro, tutti giovanissimi, anche se uno risulta ancora latitante. L'accusa è di ricettazione di mezzi agricoli, di trattori in particolare, rubati nella zona dell'alto tavoliere, rivenduti con targhe contraffatte in modo da non poter risalire ai reali proprietari del mezzo. Ma dopo una di queste operazioni la truffa viene a galla alla procura su firma del GIP. Ha delegato la polizia di eseguire quattro ordinanze, si tratta di Fiorenzo Pio Luciano, 27 anni, Antonio Legge, 22 anni, Luigi Sacco, 27 anni, Matteo Masullo, 31 anni, che risulta ancora irreperibile. L'ultimo incontro accertato è stato con la fidanzata Termoli pochi giorni fa, poi la misteriosa scomparsa, sono tutti di Apricena e Torre Maggiore. La gang di giovanissimi si serviva addirittura di un portale, subito.it, per pubblicare le inserzioni di vendita dei trattori. E proprio uno degli acquirenti, nel momento in cui aveva sborsato 6.000 euro per un mezzo e si era mosso per sbrigare tutte le pratiche, assicurazione e passaggio di proprietà, si è accorto che la targa non era originale. Da qui è partita l'indagine con la scoperta di un garage dove venivano nascosti tutti i mezzi rubati nella zona.